eccoci qua ragazzacci siamo al largo di caverrusso sono circa due ore che sto navigando ma non c'è speranza di vedere nemmeno un gabbiano ho visto solo una bella razza bellissima sono a quattro chilometri dalla costa e posso garantire che questo è mare aperto ragazzi di un blu che toglie veramente il fiato per quanto è bello giù in fondo nella foschia non so se riesco a farvela vedere non so se si intravede c'è monte cristo ma dal telefono un po impossibile riuscire a prenderla niente qui non siete morte anche perché questo è il mare da mangianza questo è il mare da mangianza come l'ha insegnato che lo vieto quella è punta cape rosso e sto nella speranza che salti qualcosa mamma mia che pace sentite che pace che c'è qua ragazzi noi non demordiamo vi regalo la vedete questa è già nutri bellissima in tutto il suo splendore noi troviamo a fare qualche lancio con qualche pop per vediamo se attira l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti